Il 118 dell'Aquila, su iniziativa del responsabile Gino Bianchi e della coordinatrice infermieristica Piera Figurelli, scende in campo a sostegno dei colleghi dell'Emilia Romagna con una raccolta fondi. Medici, infermieri, autisti devolveranno un'ora del lavoro per loro colleghi. Un segno di solidarietà perché la solidarietà è pane e prestato anche a ricordo di quanto l'Emilia ha fatto per il sisma dell'Aquila con tante donazioni. Un gesto significativo a sostegno di chi in questo momento si trova in difficoltà. E il gesto del 118 è sostenuto anche dagli altri dipendenti. I dipendenti dell'azienda sanitaria locale hanno deciso infatti, tramite un conto corrente, di raccogliere altri fondi. Abbiamo pensato di raccogliere una piccola cifra, diciamo che è una piccola goccia, una piccola goccia rispetto all'oceano di Guaiche, insomma dell'oceano dell'inondazione che c'è stata in quella regione e quindi è un gesto di, per noi un gesto di riconoscenza verso quelle popolazioni che nel nostro terremoto sono state le prime ad attivarsi. Ecco ora tutti si sono uniti a voi quindi c'è la possibilità di far arrivare un sostegno molto più importante. Sì la nostra è stata diciamo la spinta per invogliare anche altre entità di questa ASL e appunto oggi la direzione sanitaria dell'ASL 1 dell'Aquila ha indetto una raccolta tra tutti i dipendenti ognuno per una raccolta libera, ognuno con le sue possibilità però come gesto di riconoscenza e di aiuto verso queste popolazioni che hanno fatto tanto per noi. Noi siamo molto riconoscenti all'Emilia Romagna perché ha donato dei soldi per la nostra centrale operativa e la nostra è una goccia nel mare sicuramente però è un gesto simbolico che abbiamo voluto fare proprio come segno di riconoscenza.